Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Zach Bowen nasce il 15 maggio 1978 a Bakersfield, in California. I suoi genitori si chiamano Lori e Jack e Zach ha anche un fratello più grande di lui, di tre anni, Jed. I genitori di Zach hanno sempre sognato di viaggiare per l'America e decidono che è giunto il momento di esaudire questo desiderio. Fanno le varigie, si prendono i figli e si mettono a bordo del loro camper van. Dalla California si spostano verso Washington, dove abitano le loro famiglie, quindi si fermano un po', poi ripartono verso lo stato dell'Idaho. Il viaggio gli entusiasma, ma il bisogno di stabilità si fa sentire, così alla fine tornano a Bakersfield, dove Jack trova lavoro presso una compagnia petrolifera locale. È a questo punto che il matrimonio tra Jack e Lori si deteriora, principalmente perché lui detesta il suo lavoro e questo lo rende sempre nervoso. In pratica sfoga la sua rabbia sulla famiglia. Comincia anche a bere parecchio, dimenticando le sue responsabilità da genitore. Jack esce tutte le sere con gli amici, fa il giro dei locali in cui sbronzarsi e lascia Lori da sola a occuparsi di tutto. Poi, di colpo, Jack lascia pure il lavoro. E onestamente, sapete che vi dico, lo capisco, ognuno di noi ha bisogno di svolgere un lavoro che rispetti le proprie vocazioni. Ma c'è un però. Sembra che Jack non abbia alcuna intenzione di trovare un nuovo impiego più congeniale a lui. Di conseguenza Lori è in seria difficoltà, non solo deve crescere Zack e Jed, come se fosse sola, ma pure trovare un modo per mantenere la famiglia. È un bel problema, tanto che a periodi in casa non c'è nulla da mangiare, mancano i soldi per comprare persino il cibo. Lori quindi implora a Jack di mettersi di impegno, perché non possono andare avanti in questo modo. Lui si decide a trovare un altro lavoro, diventa barista in uno strip club, ma sua moglie lo scopre dopo un po' di tempo e non è contenta. Non ha nulla contro lo strip club in sé, ma teme che Jack abbia accettato questo lavoro per avere la possibilità di consumare alcol a volontà, e magari anche gratis. Inoltre lo stipendio non è sufficiente per mantenere la famiglia. Lori quindi implora a Jack di cercare altre opportunità, e lui trova lavoro a Seattle, Washington, dove si trasferisce con tutta la famiglia. Zack a questo punto della storia ha sei anni. Per un po' il clima in famiglia migliora, ma poi le vecchie tensioni riemergono. Jack riprende le sue cattive abitudini, beve molto, sta fuori tutta la notte a fare festa con gli amici, dimentica di nuovo di essere un padre. Quando rientra a casa tra le tre e le quattro del mattino è perennemente ubriaco. Lori a questo punto è costretta a prendere una decisione drastica, per quanto dolorosa. Chiede il divorzio a Jack. Ha sopportato abbastanza, concedendo al marito diverse occasioni per rimettersi in sesto. Ma in vano. È il 1990 quando Lori e Jack divorziano, e lei si trasferisce con i bambini a Santa Maria, in California, mentre Jack rimane a Seattle. In questo periodo Zack sta per diventare un adolescente. Finora ha vissuto un'infanzia caotica tra viaggi, soggiorni in California, altri a Seattle, e ora è tornato con sua madre e suo fratello in California. Soggetti a continuo di spostamenti, molti bambini accusano disagio. Inoltre Jack deve affrontare il divorzio dei suoi genitori e l'idea di rifarsi una nuova vita, in una nuova scuola, dove non ha amici. D'adolescente Zack viene descritto come un tipo piuttosto goffo, timido e anche un po' tonto. Apprezza le heavy metal, la musica grunge, fa parecchia fatica a integrarsi con i compagni di classe. Gran parte dell'imbarazzo di Zack deriva dalle sue insicurezze, soprattutto l'altezza notevole, un metro e novanta per l'esattezza. Gli risulta quindi difficile passare inosservato e questo lo agita. Per tentare di camuffare la timidezza, il ragazzo fa battute nell'intento di divertire i compagni di classe e loro, in breve tempo, lo etichettano il clown. Durante l'ultimo anno, Zack è tra i ragazzi candidati come re del ballo di fine anno e ci tiene tantissimo a conquistare il titolo. Ormai è abbastanza ben voluto dai compagni e è considerato il burlone della classe, ma lui non si è mai sentito realmente parte del gruppo. Si è più che altro adattato, però se riuscisse a diventare il re del ballo avrebbe conferma di essere accettato da tutti. Quando Zack scopre di non aver vinto il titolo, la delusione lo spinge addirittura ad abbandonare la scuola, prima di finire l'anno. Una decisione che, onestamente, considero alquanto estrema. Anche la madre di Zack non la prende bene, suo figlio era anche un bravo studente, prendeva buoni voti e lei riponeva grandi speranze nel suo futuro. Zack, tra l'altro, non ha le idee chiare su cosa fare una volta lasciata la scuola, non pensa a cercarsi un lavoro, ma dice a Lori, sua madre, che vuole trasferirsi da suo padre a Seattle. Questa rivelazione lascia sua madre senza parole, perché Zack e suo padre non avevano più coltivato un vero e proprio rapporto dai tempi del divorzio. Si sentivano al telefono, certo, e si vedevano ogni tanto, ma non erano in confidenza. Nonostante Jack si sia sempre comportato come un amico più che come un padre, Zack vuole trasferirsi da lui e Lori non può impedirglielo. Zack quindi fa le varigie e si sposta a Seattle con l'intenzione di cominciare una nuova vita insieme a suo padre. Zack lo accoglie senza aiutarlo a stabilire un piano per realizzarsi, ma lo porta in viaggio tra bar e locali, incentivandolo solo a bere e divertirsi. I due si fermano a Savannah, in Georgia, poi vanno in Florida prima di finire a New Orleans, in Louisiana. Una volta qui l'entusiasmo di Zack è ormai svanito, si annoia, ha passato l'ultimo periodo a viaggiare alla ricerca di alcol e feste e ora non è più divertente. Vuole tornare a scuola per ottenere il diploma mancato in realtà, così si iscrive a un istituto di New Orleans dove completare il suo ultimo anno. Jack, disinteressato dagli obiettivi scolastici del figlio, lo molla lì e fa ritorno a Seattle. Vogliamo per caso dare a Jack il titolo di padre dell'anno? Ce lo merita. Zack però non conosce affatto New Orleans e ha soltanto 17 anni. Dopo un po', infatti, l'adolescente abbandona di nuovo gli studi. Quando compie 18 anni, Zack inizia a cercare lavoro presso alcuni bar di Bourbon Street. E in effetti diventa barista, il che mi sorprende dato che in America i minori di 21 anni non potrebbero nemmeno bere alcolici. Figuriamoci prepararli e servirli. Forse si è procurato un documento falso? In ogni caso, proprio mentre lavora come barista conosce una donna di nome Lana Schupek. Le serve da bere e i due iniziano a chiacchierare con complicità. Lana è più grande, ha 28 anni e vive a Dallas, in Texas, dove lavora come ballerina in uno strip club. Sta visitando New Orleans perché è in vacanza con un amico. I due si infatuano in poco tempo l'uno dell'altra. Zack chiede a Lana di rimanere a New Orleans e lei accetta. Lana torna a Dallas soltanto per recuperare alcune cose e poi si lascia il passato alle spalle. Lei e Zack diventano inseparabili, la loro relazione va alla grande per i primi mesi, ma c'è un problema. Lana non ha idea che Zack abbia ben 11 anni in meno di lei. Insomma, non gli ha mai neanche chiesto che età avesse, forse dando per scontato che fosse più grande dato che lavorava in un bar. Lo scopre nello stesso periodo in cui rimane incinta e va letteralmente nel panico. Lana vuole diventare madre, si sente pronta, ma Zack è molto giovane e secondo lei potrebbe tirarsi indietro. Presto lo informa di essere in dolce attesa e di non voler rinunciare al bambino, anche a costo di crescerlo da sola perché non intende mettergli pressione. Zack però la sorprende, mostrandosi ben disposto ad assumersi le sue responsabilità di padre. Quando viene al mondo il piccolo Jackson, Zack è in adorazione e si ripromette di essere per lui un papà responsabile, non vuole assolutamente comportarsi come suo padre Jack. Ora però c'è un'altra bocca da sfamare e i soldi non sono molti, così Zack accetta di coprire dei turni extra al bar. Svolge anche parecchi lavoretti secondari e si ritrova senza un momento libero, ma è felice e sta lavorando duramente per dare un futuro radioso alla sua famiglia. Il prossimo passo è quello di trovare un appartamento adatto a loro. La vita della coppia si evolve ancora, si sposano e mettono al mondo anche una bambina. La vita della coppia si evolve ancora, si sposano e mettono al mondo anche una bambina, Lily. Zack a soli vent'anni è già un marito e ha due figli, ma il lavoro come barista, nonostante gli straordinari, non è abbastanza remunerativo e stabile. Nel 2000, a 22 anni, Zack decide di arruolarsi nell'esercito americano. Al momento non c'è nessuna guerra in corso e questo incoraggia la sua scelta, condivisa anche da Lana. Tuttavia, presto, Zack viene inviato in missione in Iraq. Questa esperienza lo cambia completamente. Viene congedato dall'esercito nel 2004, a 26 anni, ma torna a casa con un grave disturbo da stress post-traumatico e soffrendo di depressione. Zack si rimette in cerca di un lavoro come barista, fa del suo meglio per tornare alla normalità, ma, ahimè, è profondamente cambiato. Come fosse un'altra persona. È a questo punto che iniziano i problemi con Lana. I due litigano tantissimo e questo alla fine li porta alla separazione. Zack se ne va di casa e continua a fare il barista. Nel bar dove lavora conosce la collega, Eddie Hall. Inizialmente Eddie non è affatto interessata a Zack e questo lo esorta a corteggiarla con ostinazione. Eddie copre sempre il turno successivo a quello di Zack, che resta al bar ad aspettare che lei esca per fare una pausa. A quel punto le si avvicina e le fa compagnia. Giorno dopo giorno, Eddie si affeziona a Zack e accetta di frequentarlo. Eddie, cresciuta nel North Carolina, viene descritta come una persona estremamente creativa e di grande talento. È uno spirito libero, tuttavia ha avuto un'infanzia piuttosto travagliata. Ha subito abusi intimi quando era piccola, soffre di un disturbo bipolare non diagnosticato e da adulta ha spesso intrecciato relazioni con uomini violenti. Proprio a seguito di queste storie aveva scelto di trasferirsi a New Orleans per concedersi un nuovo inizio. Qui ritrova finalmente se stessa, diventa sicura di sé e indipendente, anche se quei demoni ronzano ancora dentro di lei. Gli amici la definiscono come una persona estremamente instabile, specialmente quando beve qualche drink di troppo. Da sobria è una ragazza gentile e disponibile. Da ubriaca invece diventa aggressiva, emerge tutta la sua rabbia e ahimè ne esagera spesso. Allora la gente tende a evitarla perché sa che con lei si mette male. Ma Zack si innamora follemente di Eddie. E due però passano tutte le notti fuori a bere e consumare sostanze, basando su queste abitudini malsane la loro relazione. Non se ne rendono nemmeno conto perché all'inizio tutto sembra perfetto. Il 23 agosto del 2005 si verifica un evento catastrofico. L'uragano, come ricorderete, devasta completamente New Orleans. Lana, quindi, l'ex moglie e madre dei figli di Zack, lo prega di tornare a vivere con lei e i bambini lontano da New Orleans. Ma Eddie e Zack non sono disposti ad andarsene. Lana è perplessa, disposta addirittura ad accettare la presenza di Eddie accanto a loro. Ma i due fidanzati, in un certo senso, preferiscono affrontare il ciclone. Vogliono rimanere lì a lottare insieme anche a condizione di perdere la vita. Perché questa va come deve andare. Eddie e Zack, fermi a New Orleans, riescono a salvarsi e rimanere incolumi dopo essersi rifugiati in un'area colpita con minore intensità dall'uragano. In questo clima generale di terrore e devastazione, la loro relazione addirittura migliora. Stanno vivendo un periodo felice. Durante l'uragano si uniscono a un gruppetto di persone che, come loro, aveva deciso di rimanere a New Orleans. Formano una specie di piccola comunità. Preparano pasti semplici e li consumano tutti insieme davanti a un fuoco improvvisato. Cantano, bevono e ballano. Insomma, danno vita, in un certo senso, a un piccolo festival senza elettricità né acqua a disposizione, ma apprezzano lo scenario apocalittico in cui si trovano. Eddie e Zack entrano nei bar della zona per rubare alcol e si proclamano fondatori di questa piccola comunità. Tra l'altro sono pressoché ignare di ciò che sta accadendo intorno a loro, perché, sprovvisti di elettricità, non possono guardare la televisione. Dunque si immergono volentieri in questa bolla di realtà. Durante tutto questo periodo Zack non ha mai neanche cercato di contattare Lana e i loro figli. E lei è convinta che sia morto. Si preoccupa di come dirlo ai bambini, mentre Zack si sta divertendo. Io fatico a comprendere l'atteggiamento e la mentalità di Zack e Addy in questo momento. A questo punto i media si interessano alla comunità creata da Zack e Addy. La loro storia finisce su tutti i giornali, sono simbole di sopravvivenza ed è così che vengono definiti il re e la regina della comunità dei sopravvissuti. Riuscite a immaginare lo stato d'animo di Lana? Era convinta che Zack fosse morto. Stava cercando un modo... Riuscite a immaginare lo stato d'animo di Lana? Era convinta che Zack fosse morto. Stava cercando un modo per dirlo ai bambini, ma un giorno apre il giornale e apprende questa bizzarra storia. Si arrabbia. Si chiede perché lui non abbia mai provato a contattarla, anche solo per dirle Hey, guarda che sono sopravvissuto. Voi come state? Tuttavia il nuovo stile di vita di Zack non può proseguire a lungo. La gente sta tornando in città e cominciano le operazioni per rimettere in sesto New Orleans. Pian piano acqua ed elettricità vengono ripristinate e a questo punto Addy e Zack devono tornare svogliatamente alla realtà. La coppia, in special modo Addy, giudica male quelli che non hanno resistito al ciclone e che rientrano in città soltanto adesso. Per loro due non sono veri cittadini di New Orleans. Tornati alla normalità, la relazione tra Addy e Zack si incrina sempre di più. Il disturbo da stress post-aumatico di cui è affetto Zack si fa sentire perché vede forze armate e veicoli militari per stare servizio in città. Questo è un fattore scatenante, così il consumo di sostanze della polverina bianca aumenta per entrambi. È quasi come se ricercassero le sensazioni provate durante l'esperienza dell'uragano. Momenti carichi di ansia e di adrenalina che la maggior parte delle persone non osa immaginare di rivivere. Un altro grosso problema nella storia tra Zack e Addy è il rapporto che lui ha con la sua ex moglie e con i figli. Infatti Zack ha ripreso i contatti con Lana chiedendole di poter rivedere i bambini. Lei lo rimprovera, non può sparire e poi tornare di colpo nella sua vita e in quella dei figli. Così lo incontra prima da sola. Lana dice a Zack che vuole conoscere Addy visto che i bambini dovranno frequentarla. L'incontro avviene e si giunge a un accordo. Zack potrà passare del tempo con i bambini ogni due weekend. All'inizio Addy sembra entusiasta di questa novità. Vuole instaurare un bel rapporto con i due bambini. Ben presto però si stufa di Lana perché l'ex moglie del fidanzato tende a voler dirigere ogni situazione. Addy finisce per odiarla e riversa il suo malessere su Zack e sui suoi figli. Diventa fredda, poi quasi smette di parlare ai bimbi. Col tempo ogni volta che i bambini vanno a trovarli Addy addirittura se ne va di casa. Quando compiono 7-5 anni Jackson e Lily si rendono conto di non essere ben voluti e il padre litiga spesso con la compagna. La situazione è peggiore irreversibilmente Addy colpisce Zack che si ritrova pieno di lividi. Una sera mentre è in un bar Zack che è bisessuale conosce un uomo e inizia a flirtare con lui e infine tradisce Addy. Siccome i due si trovano bene insieme decidono che il loro non sarà un incontro casuale e iniziano una relazione clandestina. Poco dopo tempo Addy lo scopre e si infuria tantissimo soprattutto perché Zack l'ha tradita con un uomo. Addy lo riempie di insulti omofobi e soprattutto brama vendetta. Sottrae quindi il telefono a Zack e informa tutti i contatti della sua rubrica che lui ha contratto l'AIDS. Dopo questo gesto i due chiaramente si lasciano ma lei non è ancora soddisfatta. Ha un altro piano per venticarsi del tradimento di Zack. Passa un po' di tempo Addy lo ricontatta e gli chiede di dare un'altra possibilità alla loro relazione. Zack vuole tornare con lei, l'ama ancora. Lo ha capito quando la storia con quell'uomo è andata in fumo. La prima cosa che Addy dice a Zack è che hanno bisogno di un nuovo posto in cui vivere. Zack decide così di affittare un appartamento. È lui che firma il contratto di locazione e paga i due mesi anticipati come previsto. Il giorno dopo però Addy si reca di nascosto dal proprietario della casa e gli dice che Zack non è più interessato a occuparla. Gli chiede dunque di intestare il contratto a lei e lui la consente. Così quando Zack torna a casa quella sera Addy lo sbatte fuori. Addy ha portato a termine il suo piano. Aveva bisogno di un posto dove stare ma non aveva abbastanza soldi per permetterselo. Quindi si è approfittata di Zack. E se vi state chiedendo dov'è il true crime in questa storia preparatevi perché prende una piega davvero contorta, strana e brutale. Quando lui lo scopre va chiaramente in bestia. Addy gli permette di rientrare in casa e i due iniziano a litigare furiosamente. La discussione va avanti per ore, poi intorno all'una del 5 ottobre 2006 succede qualcosa di irreparabile. Zack mette le mani attorno al collo di Addy e la soffoca. Di certo vi stupirete e indignerete scoprendo quali sono le sue prossime azioni. Poco dopo l'omicidio Zack fa cose con il corpo di Addy più volte. Quando alla fine è appagato si sdraia accanto a lei e si addormenta, come se nulla fosse successo. La mattina dopo si sveglia e di nuovo riesce a ignorare l'accaduto. Va a lavorare al bar, poi torna a casa e aprendo la porta dell'appartamento pensa che sia il caso di dare una pulita e di nascondere il corpo senza vita di Addy. Nei giorni successivi fa a pezzi il cadavere nella vasca da bagno utilizzando un seghetto e un coltello. Poi si mette in testa di rimuovere la carne dalle ossa e crede che il modo migliore per farlo sia cucinare le varie parti del corpo. Rese i capelli di Addy e poi le infila la testa in una pentola che ripone sul fornello. Sistema mani e piedi in un'altra pentola posizionata dietro alla stufa. Dispone braccia e gambe in una teglia che mette nel forno. Infine riempie un sacchetto di plastica con il busto e lo conserva in frigorifero col proposito di occuparsene più avanti. Zac per portare a termine questa operazione impiega diversi giorni ma nessuno sospetta di nulla. Gli amici gli chiedono dove sia finita Addy ma lui risponde che è tornata nel North Carolina. E in effetti tutti gli credono anche perché Addy è sempre stata imprevedibile. Tuttavia i colleghi di Zac notano che il ragazzo si sta comportando in modo strano. Se possibile inizia a partecipare ad ancora più feste, a bere ancora di più, a consumare sostanze ancora di più. È completamente fuori di sé. Arriviamo al 17 ottobre, sono passati 12 giorni dall'omicidio di Addy. Zac va in un hotel di New Orleans chiamato Omni Royal Orleans e riserva una camera. Anche ciò che sta per fare ora vi lascerà perplessi. Zac sale al settimo piano e si butta giù, togliandosi la vita. La polizia viene chiamata immediatamente e arriva veloce sulla scena del crimine. Mentre l'analizza scopre che nelle tasche dei pantaloni di Zac, all'interno di un sacchetto di plastica, c'è un biglietto con su scritto. Questa non è una casualità. Ho dovuto togliermi la vita perché ho togliermi la vita a qualcun altro. Se inviate una pattuglia all'826 di North Rampart Street, troverete il cadavere della mia ragazza, Addy. smembrato nel forno, sul fornello e nel frigorifero, insieme a una confessione firmata da me, Zac Bowen. Nella busta di plastica, oltre al biglietto, i detective trovano anche la chiave dell'appartamento. La prima cosa che notano entrando in casa è lo sbalzo di temperatura. Fa così freddo che sembra di essere in un frigorifero. Probabilmente Zac l'ha impostata così bassa per fare in modo che il corpo di Addy si preservasse invece di decomporsi. Gli agenti trovano anche delle scritte sulle pareti fatti con la vernice, si legge l'amavo o sono un totale fallimento. Poi più in alto c'è la scritta guarda nel forno con una freccia che lo indica, ma sullo sportello del forno si legge non aprire. Nel forno, sui fornelli e dietro alla stufa, la polizia trova le parti del corpo di Addy. All'inizio la polizia è convinta che Zac abbia cucinato e mangiato parte di quella carne, ma l'autopsia rileverà che non è così. Gli agenti individuano un altro biglietto di Zac in casa su cui c'è scritto L'ho uccisa a luna di notte di giovedì 5 ottobre. L'ho strangolata con tanta calma, è stato molto veloce. Mi sono spaventato non per aver strangolato la donna che amo da un anno e mezzo, ma per la mia totale mancanza di rimorso. So da sempre che sono una persona orribile. Chiedetelo a chiunque. Non trovate che questo caso sia davvero strano? Quando ho letto le prime informazioni a riguardo sono rimasta senza parole? Insomma, non c'è una spiegazione chiara per questo omicidio, dunque le teorie che si sono susseguite sono davvero tante. Alcune teorie si concentrano sul luogo in cui si colloca l'appartamento dove Zac e Addy si erano appena trasferiti, all'826 di North Rampart Street di New Orleans. Siccome la casa si erige su un tempio spirituale voodoo, alcuni hanno sospettato che Zac fosse stato influenzato dagli spiriti e dai fantasmi che la infestano. Questo lo avrebbe spinto a commettere l'omicidio. Nell'appartamento si registra un'attività paranormale anche dopo l'omicidio. Chi entra in casa sostiene di sentirsi osservato, di udire delle voci legate alla vicenda di Zac e Addy. Il tempio viene danneggiato da un incendio nel 2016 e viene spostato in un'altra zona. In seguito, sia il tempio che l'appartamento in cui è avvenuto l'omicidio vengono trasformati in un museo. E sappiate che ancora oggi all'interno si organizzano dei tour dell'orrore, anche perché il forno in cui Zac aveva nascosto parte del cadavere di Addy non è mai stato spostato. Altre teorie ovviamente puntano sui demoni interiori contro cui Zac in realtà aveva sempre battagliato. Come detto soffriva di un grave disturbo da stress post-traumatico che si era ripresentato dopo l'uragano e l'arrivo dell'esercito in città. Quindi io dubito che l'omicidio commesso da Zac sia dipeso dalle suggestioni del tempio spirituale voodoo. Voi che ne pensate? Sono davvero tanto curiosa di leggere le vostre opinioni. Perché questo è un caso assolutamente strano e appunto sembra che non ci sia true crime fino praticamente alla fine e succede tutto un sacco in fretta. Quindi sono davvero curiosa di sapere la vostra opinione, se avevate già sentito parlare di questo caso. Insomma, come al solito ci becchiamo nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!